E ci siamo! E ci siamo! Al sesto nuvole di Drago, al settimo c'è invece I'm Honey sulla stessa Leptismania, poi Anastasia Dattodi nei confronti di Darsena Ponti con il cap giallo, poi Eliana che lascia in coda Gioia Suprema. Queste le posizioni quando si è interrata d'arrivo, con Miss Profile che è sempre in vantaggio su Devo andare che non si fa pregare per andare all'attacco, tra le due cerca lo spazio Tim Barill, poi ancora Positive Emotion, le altre in questo momento sono piuttosto arretrate. Con Miss Profile che è sempre in vantaggio sotto l'attacco di Devo andare, Positive Emotion che si prepara, Temeraria 400 che allunga a largo di tutti, poi Tim Barill, le altre a questo punto non possono più intervenire. Con Miss Profile che allunga ancora in maniera molto molto sicura sul resto del gruppo. all'ultimo farlo Miss Profile che se ne sta andando da Tim Barill per un arrivo in famiglia con Miss Profile chiara verso la meta, Miss Profile su Tim Barill, sta finendo molto forte a largo Eliana ma è troppo tardi con Miss Profile che chiude i conti, a secondo Tim Barill, al terzo Eliana, poi Devo andare e Positive Emotion. 1-2 per Casa Biondi che porta un assegno Miss Profile, scuolite del Giglio Sardo ai colori, per Salvatore Tuolas, altre in sella. Capo all'altro Miss Profile che alla fine.